Siamo alla finestra, anche quest'anno in occasione del mercatino di Natale cerchiamo di riprendere un po' tutti quei gioielli che durante l'anno i ragazzi costruiscono per arrivare anche a questo momento e abbiamo con noi Antonella e Maria Grazia, adesso passiamo immediatamente la parola loro perché possano illustrare con la dovizia dei particolari dovuta a questa bella esperienza che dura da tempo in malnate, possano illustrare appunto di che cosa si tratta, come mai e perché esiste questa bella realtà. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Mizzi e a Enzo per l'opportunità che ci è data. Veniamo all'illustrazione veloce veloce di quello che è il nostro spazio e che in occasione del Natale mettiamo a disposizione per la vendita ma soprattutto per apprezzamento, per apprezzare quello che è la crescita del nostro lavoro. Quest'anno in modo particolare mi piace far notare, osservare, proporre con maggior crescita un certo tipo di lavoro che stiamo facendo da un po' con i nostri ragazzi che sono veramente splendidi. Nell'arco del periodo primaverile, estivo, quando le giornate sono piacevoli, spesso dedicano del tempo a decorare, pitturare con totale libertà delle grandi tele nello spazio esterno, alla struttura, fuori, nel prato, vicino ai pini. Tutto questo in totale libertà, come dicevo prima. Poi nella fase successiva, nei periodi invernali, nelle giornate brutte, abbiamo pensato a come rendere assolutamente visibili a vari livelli tutti questi prodotti, tutte queste tele e sono nate un sacco di cose, sono nate delle cartelline per raccogliere i segnalibri perché tra l'altro il segnalibro è uno dei nostri prodotti principali perché ci piace credere che leggere è un modo per fare cultura. Abbiamo preparato dei piccoli grandi pannelli con frasi che arrivano dal laboratorio di lettura, abbiamo delle cornici splendide e tante altre cose ancora. Questo per quanto riguarda il discorso delle tele libere. Grazie mille. Allora, rientriamo con Maria Grazia perché il progetto La finestra è articolato. A malnate tutti lo sanno. Fortunatamente questo mezzo che è internet permette di raggiungere tante altre persone che non sono di malnate o che sono distanti o distratte e hanno perso magari il filo del discorso. Il progetto è molto articolato e c'è una cosa grossa ma davvero importante e innovativa che sta per iniziare. Maria Grazia. Sì, è veramente una cosa grossa perché oltre all'ampliamento dell'attuale sede vorremmo creare un piccolo spazio per una residenza alloggio per dieci ragazzi. Quindi stiamo pensando al dopo di noi. È un progetto grande ma noi siamo sicuri, come lo è stato per la passata volta, di avere l'aiuto e il sostegno di tutte le persone che ci sono vicine e che ci hanno sempre aiutato. Approfitto di questa occasione per augurare a tutti un sereno Natale e in modo particolare vorrei rivolgere un grande ringraziamento a tutti i nostri volontari, a tutti i nostri collaboratori e a tutte le persone che a vario titolo ci sostengono, ci aiutano e comunque condividono con noi il percorso. Grazie a tutti.